Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento settimanale che riguarda il calendario macroeconomico e i dati più importanti della settimana. Scopriamo subito quali sono i dati che di più impatteranno sui mercati finanziari e quali saranno i mercati finanziari più interessanti. Allora qui sulla sinistra avete tutto l'elenco dei dati macro divisi per giorno, ecco qua il lunedì è molto fitto di notizie, la maggior parte però sono già tutte state rese note. Il più importante era il Tancan che è un super indice giapponese, il dato non è stato un granché però i mercati hanno reagito bene, guardate qua l'indice giapponese come sta veramente salendo molto molto bene, sta veramente andando a prendere tutti i record di sempre, in questo momento siamo su quota 24.374, un passo da quel 25.000 che è un livello psicologico molto forte però ecco il trend rialzista molto forte a fronte di un dato non così fantastico lo rende ancora migliore da prendere in considerazione. Per quanto riguarda invece la mattinata abbiamo visto i PMI di Italia, Francia, Germania e zona euro non sono stati PMI eccezionali, non hanno battuto le aspettative ma ad ogni modo quasi in linea con quelle che erano le aspettative con i dati precedenti. Per quanto riguarda invece il pomeriggio abbiamo ancora il PMI manifattoliero degli Stati Uniti quindi l'ultimo dato importante per quanto riguarda la giornata odierna deve ancora uscire ed è il PMI manifattoliero. Passiamo ora alla giornata di domani, avremo un appuntamento molto importante per chi opera sull'indice australiano ma soprattutto sul dollaro australiano, ci sarà la decisione sui tassi di interesse. Occhio perché l'orario è proibitivo, sono mattina presto quindi bisogna mettersi la sveglia e cercare di essere pronti sulla piattaforma proprio all'ora dell'uscita del dato. Poi avremo prezzi delle case, delle costruzioni per il Regno Unito, il settore immobiliare è ovviamente uno dei principali del Regno Unito, uno dei più seguiti per quanto riguarda i dati macro, previsione per l'1,9% da un precedente 2%, quindi immaginiamo non troppi scossoni. Passiamo poi al 3 ottobre, con il PMI composito della zona euro, quindi siamo già a mercoledì, il martedì un po' vuoto di dati, saranno solamente tre dati importanti, due dei quali sono sull'immobiliare del Regno Unito. Abbiamo parlato del PMI, passiamo ora a tutti questi dati americani, guardate quanti ce ne sono, il più importante è l'ADP, che è questo qui rapporto nazionale sull'occupazione ADP, che cos'è? È un dato mensile che anticipa di due giorni il più famoso non far payroll, che è reso noto da una società che si chiama ADP e rende noto il dato sulle nuove buste paga emesse, praticamente è una società che fa consulenza fiscale e di conseguenza sa molto bene quali sono i numeri sul territorio americano per quanto riguarda il numero di lavoratori. Questo dato è un dato anticipatore rispetto al non far payroll, il dato più importante del mese che ci sarà invece venerdì, eccolo qui alle due e mezza, buste pagano agricole, quindi dall'andamento dell'ADP possiamo farci un'idea di come uscirà il dato sul non far payroll, ovvero buste pagano agricole. Per quanto riguarda questo dato in particolare del venerdì, abbiamo preparato un seminario online in diretta che trovate qui, andate sul nostro sito, notizie, analisi, formazione, eccolo qui, ci cliccate dentro, andate su webinar ed eventi, ci saranno molti webinar programmati per i prossimi giorni, comunque per ottobre ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco questo, analisi in tempo reale sul dato non far payroll. Per iscriversi a uno di questi webinar basta cliccare su iscriviti ora, lasciare i dati, vi arriverà un'email poco prima dell'inizio del webinar, un'oretta prima circa, con il link per connettersi all'evento e a quel punto avrete la possibilità di seguire il dato in tempo reale. Un altro interessante potrebbe essere quello dell'8 ottobre, anche in questo caso un seminario non didattico ma proprio su un aggiornamento sui mercati, su che cosa sta succedendo sui mercati. Torniamo ora sui nostri dati macro e sulla piattaforma e andiamo a prendere gli altri dati, abbiamo detto ADP, uno dei dati più importanti, il mercoledì sicuramente è il dato più importante, abbiamo un po' di dati americani, vedete qua andamento non manifatturiero, ce ne sono un po', quindi bisogna leggerli in maniera aggregata, bisogna cercare di capire qual è il dato che poi esce fuori, non è semplicissimo e poi per coloro che seguono attentamente il petrolio, oggi comunque vedremo un bel grafico del petrolio con un grafico rialzista, ecco qua il dato sulle scorte di greggio. Passiamo ora giovedì con bilancia commerciale per quanto riguarda l'Australia, sussidi di disoccupazione, il classico dato del giovedì e ordini industriali per gli Stati Uniti. Passando invece a venerdì, come vi dicevo prima, il dato più importante è sicuramente non far payroll, ovvero buste pagano agricole, quello del 14.30, però prima abbiamo anche altri dati importanti, ovviamente l'attesa di tutto il giorno sarà proprio per le 14.30, quindi è vero che ordini manifatturieri è un dato molto importante, però ci sarà insomma magari meno volatilità durante la mattinata per poi esserci alle 14.30 con una serie di dati tra cui le buste pagano agricole che adesso vedremo. Ci sono innanzitutto i dati canadesi con l'occupazione e ovviamente i dati anche sulla disoccupazione e la bilancia commerciale del Canada, ma nello stesso momento escono bilancia commerciale per gli Stati Uniti, occupazione, tasso di disoccupazione per gli Stati Uniti e buste paga. Ovviamente Euro-Dollaro, indici sono tra i mercati più volatili, però anche dollaro canadesi contro il dollaro, perché? Perché abbiamo proprio due dati, anzi tre dati sul Canada e tre dati sugli Stati Uniti e quindi è veramente un momento particolare per il dollaro canadesi contro il dollaro. Passiamo ora ad alcuni grafici che prenderemo in considerazione in questo appuntamento. Abbiamo il Dow Jones che continua il suo trend rialzista, addirittura accelerato, si è portato nella parte alta di questo canale azzurro e adesso siamo su un'area particolare, perché? Perché a inizio anno abbiamo trovato dei record sul Dow Jones che sono stati testati negli scorsi giorni, vedete qui questa candelina piccolina, però è riuscito in qualche modo a portarsi oltre il record di inizio anno, in questo momento il Dow Jones sta di nuovo approcciando quell'area, quindi molto importante seguire questa zona, ci sarà ovviamente una pressione di vendite, però vedremo se la forza dell'indice americano continuerà a portare livelli sempre più alti e a raggiungere finalmente i 27 mila punti. Passiamo ora al Germany 30, all'indice tedesco, eccolo, qui siamo in un punto particolare, perché? Perché l'indice è rimbalzato più volte su quest'area di supporto, però siamo anche sotto una trend line ribassista. Ora i mercati americani stanno salendo molto bene, quindi potrebbero influire bene sul Germany 30 non sta succedendo in questo momento e siamo però di fronte a un bivio, cioè dovremo capire se il Germany 30 riuscirà a risollevarsi per poi andare a prendere livelli più alti rispetto a questi massimi ottenuti a gennaio, oppure se invece continuerà a scendere seguendo questa trend line di medio periodo, ad ogni modo c'è un forte supporto in quest'area e una resistenza invece su questa trend line, quindi sarà molto interessante capire che cosa succederà nei prossimi giorni per prendere una decisione a riguardo. Petrolio, come vi dicevo prima, abbiamo un bel trend rialzista ormai da più di un anno, quindi insomma è un trend che dura da oltre 12 mesi, è sempre ben posizionato, il petrolio sta salendo molto bene e sta raggiungendo i livelli di inizio luglio. Passiamo infine al BTP, ci sono insomma un po' di notizie che arrivano dal governo italiano in tema di economia, quindi con il DEF che insomma ci sono alcuni dettagli che sono stati resi noti nella serata del 27 di settembre, ci è stato uno scossone per quanto riguarda il future sul BTP, quando vediamo il future sul BTP scendere vuol dire che i rendimenti salgono, sono saliti in questi minuti, sta battendo il 3,2% il rendimento sul BTP decennale e quindi le contrattazioni del future sul BTP stanno scendendo e di molto, lo spread si sta allargando, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Come è possibile operare sul future sul BTP? Ormai conosciamo tutti come viene costruito lo spread, cioè quella differenza di prezzo tra il BTP e il Bund, quello che possiamo fare è andare a acquistare il BTP e vendere Bund nel caso in cui pensassimo che in qualche modo i mercati stanno esagerando sul prezzare il rischio dell'Italia e quindi in qualche modo i rendimenti del BTP scenderanno rispetto a quelli tedeschi, invece fare il contrario, cioè vendere il BTP e comprare il Bund nel caso in cui pensassimo che la situazione italiana si aggraverà, ovvero ci saranno dei rendimenti maggiori, quindi rendimenti maggiori significa una quotazione più bassa del BTP, rendimenti minori significa una quotazione più alta del BTP. Fare l'operazione con il Bund perché? Perché in questo modo si è più coperti, ovvero non si prendono altri rischi se non quello di capire come si muoverà l'indice del rischio italiano, ovvero il rendimento, il BTP rispetto al Bund, in questo modo si ha una copertura che quella del Bund tedesco e si può anche meglio comprendere e avvicinarsi di più al valore dello spread. Io vi ricordo che nei prossimi giorni ci saranno diversi webinar che abbiamo schedulato per ottobre, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, buona giornata. Grazie a tutti.